Non dimenticare l'entusiasmo suscitato dal Giubileo della Misericordia, la riscoperta in molti del Sacramento della Riconciliazione, luogo privilegiato per fare esperienza della bontà, della tenerezza di Dio e del suo perdono. Papa Francesco, esortato così i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ricevuti in Vaticano, ricordando il lavoro che sono chiamati a fare in vista della prima giornata mondiale dei poveri il prossimo 19 novembre. Ripetendo la necessità per l'evangelizzatore di essere testimone credibile di misericordia, il Pontificio ha indicato due vie da percorrere. La prima, valorizzare come Chiesa la ricchezza dei singoli popoli e delle loro culture per vivificare l'azione della grazia che apre il cuore all'annuncio del Vangelo. La seconda via riguarda il risveglio del cuore di tante persone cadute nel baratro dell'indifferenza, incapaci di gustare la vita e di costruire serenamente il proprio futuro. E' importante pertanto che sappiamo penetrare nel cuore della nostra gente per scoprire quel senso di Dio e del suo amore che offre la fiducia e la speranza di guardare avanti con serenità, nonostante le gravi difficoltà e povertà che si è costretti a vivere per l'ingordigia di pochi. Grazie a tutti.